Siamo in Galleria Roma, pieno centro storico di Pesero, qui dove persistono diversi problemi da anni. Ora sono i commercianti a lanciare un appello al comune. Barboni che bivaccano a terra tutte le ore del giorno, biciclette parcheggiate abusivamente al suo interno, cartacce e bottiglie vuote lasciate ovunque. E la fotografia di Galleria Roma, che dovrebbe essere un fiore all'occhiello per questa città, dicono i commercianti ormai stanchi, e invece qui regna il degrado più totale. Ad un mese e mezzo dal Natale non è di certo la miglior cartolina per attrarre cittadini e turisti, da qui di nuovo la richiesta al comune che dovrebbe intervenire per riqualificare almeno la pavimentazione, un intervento che gli stessi commercianti attendono da anni. I problemi sono rimasti sempre quelli, anzi si sono aggiunti perché ci sono anche gli ubriaconi che si mettono lì sotto e fanno bisboccia, fanno di tutto ed è la gente anche un po' paura di passare, in più tutte le biciclette, tutti i motorini e il pavimento è rimasto quello che era, mentre il comune aveva detto che avrebbero fatto questi lavori, perché il tetto è stato fatto ma dai condomini, quindi il comune dovrebbe pensare anche alla pulizia di questa galleria. Non è decoroso per niente, anche perché la gente ha bisogno di vedere delle cose belle. Mi era stato detto praticamente che da febbraio 2021 avrebbero pensato a incominciare i lavori della pavimentazione della galleria, questo non è stato, visto che ha due passi dal teatro e quindi oltretutto poi basta di tenere motorini, biciclette. Io vengo a lavorare con la bicicletta ma mica la metto qua sotto, cioè non ho capito perché devono tutti fare una cosa di questo tipo. Ci sono i soliti ubriaconi, i soliti drogati, i soliti casini, fanno parcheggiare le biciclette, fanno parcheggiare le motociclette, fra poco ci mettono anche le macchine e quindi la galleria Roma sarà sempre, promettono dovrebbe essere eseguito, probabilmente avranno investito quello che è in altre cose e adesso aspetteranno di riavere i soldi per poter rifinanziare questo lavoro che secondo me è indispensabile per avere una galleria Roma vivibile, messa bene insomma.